Anche quest'anno in collaborazione con l'amministrazione comunale siamo riusciti ad organizzare gli eventi del Natale, quindi c'è un calendario per tutto il mese del Natale e abbiamo fatto qualcosa di diverso, speriamo che sia una cosa che sarà gradita a tutti quelli che verranno a Borgotaro per le vie del Paese, oltre alle luminari ci sarà anche questa nuova iniziativa con gli alberelli lungo la maggior parte delle vie del Paese. Ci sono poi delle manifestazioni, una in modo particolare sarà quella credo del 19 di dicembre con il gruppo tutto attaccato, credo che sia una bella iniziativa e spero che ci sia parecchia gente anche durante questa manifestazione. L'augurio per tutti è naturalmente da parte dell'associazione dell'ASCOM di un sereno Natale e l'augurio anche e soprattutto a tutti i nostri imprenditori vista la situazione che abbiamo da parecchi anni di crisi eccetera di un sereno Natale e anche di un proficuo Natale. Grazie e buon Natale a tutti. Sì è un piacere a nome dell'amministrazione comunale ringraziare questa di oggi l'occasione anche per ringraziare chi ha dato una mano nel costruire il calendario delle manifestazioni natalizie e nell'abbellire Borgotaro per il mese di dicembre, per l'avvento e per la festività del Natale. Bisogna ringraziare per la collaborazione l'ASCOM, l'associazione di categoria di Borgotaro, i tanti commercianti per la collaborazione nell'abbellimento del volgo grazie agli alberelli e ringraziare poi il gruppo dei baristi che ci ha dato una mano nell'organizzazione delle manifestazioni del mese di dicembre. Naturalmente ci sono alcune novità che vi invito a scoprire andando a vedere il programma, a scorrere il programma, ma ci sono anche altri eventi e questo è l'altro grande ringraziamento che continueranno anche quest'anno in continuità con gli anni precedenti, con le tanti eventi e manifestazioni creati e organizzati dalle associazioni di volontariato, infatti il mese di dicembre è un mese ricco di eventi in cui il volontariato organizza momenti di aggregazione, momenti di festa, momenti anche di gioco insieme e questi momenti sono davvero importanti per lo spirito della nostra comunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.